LibreOffice, la grande suite di programmi da ufficio, open source, libera e gratuita, utilizzata da tantissimi utenti non solo in ambiente GNU Linux, adotta formati standard, aperti e semplifica collaborazione e distribuzioni di documenti. Di questi ed altri aspetti di cultura di libertà digitali parliamo anche con un ospite qualificato. Potrebbe risultare superfluo, ma prima di presentare il mio ospite vorrei introdurre i programmi che compongono questa suite alternativa al monopolio Microsoft Office. Writer, l'elaboratore di testi che uso anche per lunghe relazioni con note, indici, riferimenti incrociati e per la stesura dei miei testi su Linux, sempre con ottimi risultati. Conosco altri come me che ne fanno un uso professionale per la redazione di lunghi manuali, riuscendo a sfruttare alcune funzionalità in più che mancano nel più blasonato world. Calc, la controparte libera di Excel, compresa la differente sintassi delle funzioni, si rivela efficacissimo. Ho ottenuto fogli col calcoli complessi in modo intuitivo e ricavando dalla guida integrata tutte le informazioni necessarie, in italiano ovviamente. Non nemmeno degna di nota Draw, potente programma di disegno che consente anche di realizzare brochure. Ci ho realizzato le copertine dei miei testi, le infografiche di Windows contro Linux e quelle con le scorciatoie di tastiera di Linux Mint. Metto il link nella descrizione qui sotto. Un altro componente importante è Impress, programma dedicato alle presentazioni in diapositive molto simile a PowerPoint. Benché rivolto ad un tipo di utenza di nicchia va citato Math, l'editor di formule matematiche che possono poi essere distribuite attraverso altri tipi di documenti di testo o slide. Infine c'è Base, il sistema di database che replica Access, in grado di creare database per incorporare dati nei documenti o fare da interfaccia verso motori DB come Oracle, MySQL, DBASE e altri attraverso connettori JDBC, ODBC o direttamente. LibreOffice è dotato di ottimo supporto. Una disponibilissima, ricca comunità di utenti pronta a rispondere anche in italiano a qualunque domanda. Se ti serve c'è anche un apposito spazio con la documentazione in PDF. Ma molto spesso, dall'interno di uno dei suoi programmi, basta premere il tasto F1 e digitare qualche parola chiave per ottenere dalla guida incorporata gli argomenti più rilevanti. Sempre spiegati rapidamente ed in modo impeccabile per risolvere rapidamente un eventuale stallo. LibreOffice è la suite di programmi da ufficio preinstallata nella maggior parte delle distribuzioni GNU Linux e merita il suo posto. È compatibile con i formati proprietari di Microsoft Office e sei quindi in grado di intervenire su qualunque documento precedentemente realizzato con Word, Excel, PowerPoint e salvarlo e ridistribuirlo, se proprio lo vuoi, nello stesso formato. Essendo però multipiattaforma, LibreOffice è disponibile anche per sistemi operativi Windows e MacOS. Questo non vuole essere un tutorial per l'uso di LibreOffice. Esula dallo scopo del video entrare nelle specificità di utilizzo della suite, ma la documentazione disponibile è davvero tanta. In italiano è sempre aggiornata. Verifica i link nella descrizione e nel blog. Come accennato nel sommario, di LibreOffice vorrei parlare con un ospite autorevole e qualificato sull'argomento. Ho il piacere di dare il benvenuto a Gabriele Ponzo, vicepresidente del consiglio direttivo della Fondazione LibreItalia, associazione di volontariato il cui obiettivo, cito dal sito web ufficiale, è la diffusione di LibreOffice della cultura digitale in tutti gli ambiti, dalla scuola alla società civile, dalla pubblica amministrazione alle aziende, con una particolare attenzione per i formati standard e aperti dei documenti. Ciao Gabriele, benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te per avermi dato visibilità nel tuo seguitissimo, almeno da me, canale YouTube e blog. Già questa piccola introduzione sull'attività dell'associazione che rappresenti fa capire che ci sarebbero tantissimi temi importanti di cui parlare. Andiamo quindi subito al sodo. Svesto i miei consueti panni di divulgatore del software libero ed esordisco con una provocazione. LibreOffice è una suite di programmi usata da utenti Linux ma anche Windows e Mac, ma è talvolta criticata per un'interfaccia non accattivante e perché in alcuni casi può succedere di aprire documenti redatti con Microsoft Office con risultati imprevisti. Cosa puoi dirmi in proposito? Sì Dario, spesso le persone criticano LibreOffice dalle sole apparenze. Il suo look and feel, se lasci le impostazioni di default, è un po' old, un po' antico per carità, ma in realtà è un po' una scelta, a essere sinceri. La sua compatibilità con Microsoft Office non è 100% e forse non lo sarà mai, però è un altro il punto. Quello che succede è che le persone spesso mistificano prezzo con valore. Il fatto che non sia necessario pagare per averlo magari fa pensare per l'appunto a un prodotto più scadente, un prodotto meno professionale perché per l'appunto è gratis, cosa vuoi aspettarti mai, ma questo è completamente sbagliato, anche perché la versione community non ha alcuna limitazione e ti permette di fare qualunque tipo di elaborazione anche molto approfondita, io lo uso professionalmente. Ora cercherò anche di sfatare questi luoghi comuni, insomma. Uno dei motivi che per esempio porta a una resa non perfetta dei documenti di Microsoft Office. Spesso non è tanto il solo software quanto il fatto che chi ha redatto quel documento non era stata formata perché nessuno nasce imparato, come si sol dire. Quindi quello che accade è che se ti mettono davanti a un computer a usare la videoscrittura e tu non l'hai mai fatto e magari vieni da una macchina da scrivere, come si dice, in realtà sarebbe macchina per scrivere, magari tendi a usarla allo stesso modo, ma è tutta un'altra storia, è tutto un altro mondo, un computer rispetto a una macchina per scrivere. E anche le macchine per scrivere avevano delle impostazioni, alcune bisognava aprire tipo il cofano per regolare le tabulazioni, ad esempio. Insomma, è uno strumento sicuramente molto più complesso. E purtroppo anche la famosa ICDL, la European Computer Driving License, cioè insomma la certificazione di uso del computer, molto spesso non aiuta perché ahimè, non sempre, ma spesso viene fatta in maniera abbastanza superficiale. Scusa Gabriele, lasciami chiarire che per ICDL intendiamo la patente europea per l'uso del computer o come si dovrebbe dire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale che certifica appunto il livello di competenze informati. Esatto, mi è capitato svariate volte di conoscere persone patentate che non avevano idea di cosa siano gli stili. Questo è vero, in quanti vedo di continuo impostare nei documenti di testo, grassetto e dimensioni differenti singolarmente su quelli che vorrebbero essere titoli, poi compilano l'indice a mano. Non solo, ad ogni aggiunta al testo rinumerano manualmente tutto. Quando basterebbe selezionare le righe interessate, impostarle come titolo e ritrovarsi l'indice pronto in automatico e sempre aggiornato. Proprio così, Dario. E benché venga da sorridere, non c'è di che stare allegri. Giudicare senza conoscere è a dir poco un comportamento superficiale. Ci sta che il primo impatto possa disorientare, ma da lì a esprimere un giudizio ci dovrebbe essere almeno l'onestà intellettuale di ammettere i propri limiti, se se ne è coscienti. Per tornare alla tua provocazione, il punto è che LibreOffice non è mai stato e non vuole essere un clone di Microsoft Office. Non ne ha bisogno. LibreOffice deriva da un progetto nato nel 1984. Non è arrivato in corsa cercando di inseguire altri. Possiede funzionalità avanzate che altri suite non hanno e che, ti posso assicurare, fanno una grossa differenza quando si gestiscono documenti corposi e complessi di centinaia di pagine, magari scritti in collaborazione tra più persone. L'utente abituato a software commerciale spesso si domanda come fa una serie di programmi tanto curati ed evoluti ad arrivare gratuitamente sul desktop? Come fanno i programmatori che li sviluppano e li migliorano di continuo a guadagnare? La gratuità è dovuta al fatto che il modello di business del software open source si sposta sui servizi. Le stesse persone che nutrono sfiducia per essa spesso non si pongono il problema per numerosi altri software open source che utilizzano e talvolta senza nemmeno saperlo. Ad esempio moltissimi conoscono Firefox di Mozilla, anche quello è software leader, anche quello è gratuito ed è un validissimo prodotto. Magari in questo caso siccome un po' tutti i browser sono gratuiti, non si fa questo ragionamento del prezzo, del valore. Invece è la stessa identica filosofia. I soldi risparmiati dall'acquisto di licenze possono invece essere meglio impiegati su servizi quali la formazione per l'appunto. Investire nelle persone si dimostra sempre un ottimo modo di spendere i soldi, specialmente quelli pubblici. Sarebbe importantissimo per l'appunto che le scuole ad esempio insegnassero la Office Automation, ma per farlo bisogna avere lungimiranza e l'umiltà di far formare gli insegnanti in primis. Ci sono schiere di programmatori che non conoscono a sufficienza questa materia. Utilizzare LibreOffice, ma più in generale software open source nelle scuole, sarebbe di importanza fondamentale e anche strategica per insegnare la pluralità e la libertà nell'informatica, evitando di addestrare il futuro del nostro paese e i nostri figli nell'uso di soluzioni proprietarie e pertanto non controllabili né verificabili, nel loro comportamento in termini di privacy ad esempio, e nemmeno prodotti in Europa. Osservazioni le tue che toccano temi importantissimi e delicatissimi, ma io insisto con domande provocatorie che un utente comune si pone proprio per la mancata conoscenza di meccanismi e dinamiche. Perché LibreOffice si ostina ad usare principalmente formati differenti dagli standard Microsoft? LibreOffice usa un formato per codificare i propri file chiamato Open Document Format. Non è corretto parlare di formato di LibreOffice perché tale famiglia di codifiche è curata da un consorzio di enti e aziende di cui fa parte persino Microsoft ad esempio, ma anche altri grandi nomi dell'informatica mondiale. Molto probabilmente però LibreOffice è il software che meglio implementa tale formato, in quanto crede fortemente nella sua imparzialità e leggibilità da parte di chiunque, anche senza nessun software installato. ODF è un formato standard ISO e molti governi lo hanno scelto come formato ufficiale nei propri paesi. Quindi mi stai dicendo che piuttosto che salvare, redistribuire documenti nei formati proprietari che obbligano ad avere uno specifico software per la gestione, dovremmo sensibilizzare gli utenti a ricorrere quanto più possibile ai formati ODF, sia che usino Microsoft Office che LibreOffice? Ma certo, pensa che chiunque può leggere il contenuto di un file ODF anche senza avere un software di Office Automation installato, basta avere un software che possa decomprimere i file zip, perché di fatto questo sono, e un qualunque editor di testo, anche flat, tipo il blocco note. Questa cosa ne garantisce la leggibilità nel tempo, oggi come tra un secolo. Ti confesso che ho preso l'abitudine di farlo sistematicamente quando mi inviano file docx o xlsx che devo modificare e rimandare al mittente. Li rispedisco, salvati nei formati aperti ODT e ODS. Fai bene, è una premura che chiunque abbia a cuore la pluralità e l'indipendenza di informatica dovrebbe avere. Nessuno ci pensa mai, ma divulgare il file ODF non comporta alcun costo a chi li riceve, perché può liberamente scaricare LibreOffice per aprirli e modificarli. Al più potrà essere una piccola scocciatura la prima volta. Al contrario, facendo girare formati proprietari, tendi a costringere chi li riceve all'acquisto di software. Ti faccio un altro esempio per chiarire come LibreOffice sia preferibile ad altre soluzioni proprietarie e non solo per questioni di gratuità o principi ispiratori. Come da te citato nell'introduzione, la suite contiene un modulo chiamato Draw, col quale è possibile fare una quantità di cose sbalorditive e che non ha una controparte in altre suite più blasonate. Una funzione molto interessante tra le altre è quella che permette l'apertura e la modifica di file PDF. Ma in realtà è uno strumento di disegno vettoriale e raster di incredibile potenza. Consente di creare e impaginare dal volantino al poster, al disegno architettonico o elettronico. Nessuno lo cita mai, ma secondo me fa la differenza. Con i suoi connettori permette di collegare oggetti e poi spostarli a piacimento senza perdere il collegamento, ideale per organigrammi ma anche per schemi tecnici. Infine i livelli, che permettono di sorrapporre strati con oggetti di tipo differente ed accenderne o spegnere la visualizzazione e o la stampa a piacimento. Più in generale, LibreOffice gode del contributo di milioni di persone distribuite in tutto il mondo. Questo fa sì, ad esempio, che nell'apposito sito extensions.libreoffice.org siano disponibili numerosi modelli, template in inglese, estensioni utilissime o gallerie di oggetti grafici che risparmiano ore e ore di tempo per andarseli a cercare, evitando anche problemi di copyright o difformità rispetto alle versioni ufficiali. Ancora, con LibreOffice è possibile firmare e criptare i documenti con l'algoritmo GPG, GNU Privacy Guard, ed i suoi meccanismi di chiavi asimmetriche aderenti allo standard OpenPGP e YETF. Ed è anche possibile salvare i file direttamente sui più comuni cloud storage. Anche qui ci sarebbe tanto da dire, ma magari in un'altra occasione. Per ora voglio ricordare a tutti un famoso detto tra noi informatici, il cloud non esiste, esiste il computer di qualcun altro. Gabriele, sarebbe bello continuare questa chiacchierata e mi piacerebbe che trovassimo in futuro nuove occasioni per parlare di LibreOffice, ma anche di temi tanto delicati di cultura, educazione e libertà digitali. Ma per non abusare del tempo del nostro spettatore ti chiederai alcune osservazioni che ritieni di fare in chiusura. In conclusione voglio fare un caloroso invito. Contribuisci. Sì, dico proprio a te che stai guardando ora. La vita ci insegna che nei rapporti sociali è sempre bene cercare di bilanciare quanto si riceve con quanto si dà. Anche tra migliori amici o in famiglia si cerca sempre di ricambiare un favore o un regalo. Ebbene, lo stesso concetto vale per l'intera società. A livello mondiale. Senza scomodare pandemie e cambiamenti climatici, è comunque evidente che viviamo in un pianeta finito, nel senso di non infinito. Pertanto credo che quando ci si trova bene con un software open source, quale che sia, in questo caso ovviamente mi riferisco a LibreOffice, sarebbe il caso di iniziare a pensare di ricambiare. Ben detto. Anche io di tanto in tanto cerco di sensibilizzare chi mi segue su questo aspetto. Talvolta, come ho detto in altre occasioni all'open source o anche a Wikipedia, per esempio, si chiede spesso di fornire programmi o servizi perfetti senza tracciamento d'uso o pubblicità a livello di quelli commerciali, ma si vuole che programmatori e professionisti lavorino gratis per sempre per fare un favore agli utenti che non cacciano mai un soldino di tasca per supportarli. Proprio così non si può sempre e solo prendere e soprattutto non comprendo il motivo per cui le stesse persone disposte a pagare una licenza software poi non pensino minimamente a contribuire a un progetto che permette loro di lavorare professionalmente tutti i giorni. Paradossalmente questo vale più per aziende e grandi compagnie che avrebbero bene altre disponibilità economiche, grazie al profitto che l'uso di libre office inevitabilmente porta, rispetto magari a privati cittadini che spesso una donazione anche piccola di denaro o di tempo la fanno. Donare anche solo il proprio tempo poi è ancora meglio per poter vedere con i propri occhi e con grossa soddisfazione i risultati concreti del proprio operato. Le aziende invece potrebbero donare anch'esse dei soldi alla fondazione o magari acquistare dei servizi dalle aziende dell'ecosistema che gravita intorno a libre office. Le grandi aziende poi potrebbero tranquillamente permettersi di pagare degli sviluppatori a tempo pieno dedicati interni o esterni dedicati allo sviluppo di libre office e a risolvere i problemi che spesso lamentano invece di segnalarli solamente spesso nei canali sbagliati. Ci sono enti pubblici anche in Italia che stanno risparmiando milioni di euro grazie a libre office. Se anche impiegassero solo un decimo di questi risparmi nel progetto non ce ne sarebbe più per nessuno. Libre office diventerebbe molto più rapidamente la miglior suite di office automation e soprattutto libera ed europea. Ti anticipo che lo scenario di cui parli dell'adozione di software aperto e libero negli enti pubblici è già oggetto di mio interesse e indagine. Ne parlerò compiutamente e spero presto anche in relazione ai compiti dell'Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, per fare il punto sulla situazione dell'innovazione digitale nel nostro Paese. Ci stiamo lentamente muovendo e con anni di ritardo rispetto a quanto il buonsenso indicherebbe, ma in realtà anche rispetto alle leggi. Sono quasi dieci anni che l'articolo 68 del Codice Amministrazione Digitale prescrive l'obbligo di uso di software libero per le pubbliche amministrazioni. Ma poi spesso chi fa le leggi in Italia purtroppo è il primo che le viola o non le rispetta. Gabriele, ti ringrazio nuovamente tanto per avermi dato l'opportunità di toccare temi così importanti in questo video. Al di là del suo successo spero che siamo riusciti a fornire spunti più utili e interessanti dei miei soliti tutorial e recensioni di sistemi operativi e programmi open source. E ti ringrazio tanto anche per il prezioso aiuto che da tempo mi stai fornendo per migliorare i miei libri e e-book già pubblicati e di prossima pubblicazione. Per me è sempre un piacere collaborare con persone competenti e di buona volontà come te. Speriamo infatti di poter ispirare il grande pubblico a prendersi cura dei propri diritti digitali quanto tengono a tutti gli altri diritti ogni giorno. Grazie Gabriele. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Grazie. Alla prossima. È tutto per oggi. Come detto poc'anzi mi stimola l'idea di un nuovo filone di video o un nuovo ulteriore canale legati alla cultura e all'educazione sulle libertà digitali. Fammi sapere cosa ne pensi anche con un commento. Ovviamente ti consiglio di iscriverti al mio canale e attivare le notifiche per venire informato sulle mie prossime iniziative. Ti ricordo quindi youtube.com slash chiocciola alternativa linux per vedere i video già pubblicati, ben organizzati, il blog alternativalinux.it, il canale telegram e se vuoi i miei e-book su linux che trovi su alternativalinux.it slash libri. Grazie per il tuo tempo e il tuo interessamento a questo video e alla prossima.